In Abruzzo la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica ha suscitato reazioni e commenti e soprattutto accuse al centro-destra. La senatrice aquilana Stefania Pezzopane plaude al Mattarella Bis a cui si è arrivati dice con 759 voti compreso il mio e un intero paese che ringrazia l'applauso lungo e commosso in Parlamento e alla sua generosità. Le parole del presidente sono solenni e fanno comprendere l'importanza della richiesta del Parlamento ma anche la gravità in cui versa il sistema politico. Abbiamo votato otto volte, è stata una settimana complicata in cui si è sfasciato il quadro politico. Il deputato Gianluca Vacca ricorda che il capo dello Stato ha guidato l'Italia in uno dei momenti più difficili della sua storia anche se i leader dei partiti non sono riusciti a trovare un'intesa sul nome di alto profilo per la sua successione. Mattarella ha dimostrato ancora una volta di essere un uomo di grande responsabilità accettando l'invito del Parlamento a una seconda rielezione sbrogliando l'impasse in cui era fermo il paese. Comunque adesso è importante che l'Italia abbia ancora un presidente come Sergio Mattarella che insieme a un'altra figura di altissimo spessore come il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi avrà il compito di continuare a lavorare per risollevare l'Italia dalla crisi. Il deputato di Italia Viva Camilo D'Alessandro in una nota afferma che con Mattarella vince il paese e perdono gli apprendisti stregoni Salvini e Conte che hanno sbagliato tutto ciò che potevano sbagliare che l'Italia ha visto e capito tutto. Renzi un gigante difensore della politica delle istituzioni evidenziato. Augura buon lavoro al presidente Mattarella e il commissario per la ricostruzione nel centro Italia e nell'isola di Ischia Giovanni Legnini il quale afferma che l'Italia può continuare a contare su una guida esemplare e sicura. Il presidente della regione Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia nella veste di grande elettore insieme al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e al capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi ha usato toni critici. Il Parlamento moribondo è di moribondi che ha fatto una scelta di basso profilo ritrovandosi in ginocchio a pregare Sergio Mattarella di fare quello che Mattarella stesso aveva detto di non voler fare. Si sono barattati sette mesi di durata della legislatura del governo e dei relativi stipendi parlamentari nella paura che potesse saltare il governo per sette anni di Quirinale e non credo che sia un fatto positivo per il Paese. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Marcozzi evidenzia invece abbiamo sempre ribadito in tutti questi giorni l'importanza di scegliere una figura super partes di garanzia e dall'alto profilo istituzionale che unisse il Paese e il Parlamento. Non solamente per seguire la grammatica istituzionale ma anche per una questione puramente numerica visto che nessuno aveva i voti per fare da solo. Questo il centrodestra non l'ha capito, abbiamo così assistito al comportamento responsabile di chi ha preferito mandare al macero figure di primordine nelle istituzioni del nostro Stato piuttosto che cercare una personalità condivisa. Nessuno rispecchia meglio del presidente Mattarella il profilo di cui l'Italia ha adesso bisogno. Per il segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina Letta ha fatto vincere il Paese, Marsiglio si conferma grande elettore del suo partito ma non dell'Abruzzo e questo deve essere sempre il PD e questo ha dimostrato di essere la principale infrastruttura della democrazia italiana capace di ascoltare la volontà popolare di tutelare l'autorevolezza delle istituzioni. Con Sergio Mattarella le italiane e gli italiani possono continuare a contare in una figura di assoluta garanzia per tutti. Sbaglia Fratelli d'Italia a mancare anche questo appuntamento di coesione nazionale inseguendo strumentalmente un voto anticipato che gli italiani non stanno chiedendo soprattutto per il momento delicato che stiamo attraversando. Sbaglia Fratelli